Musica Musica Amici sportivi tivosi del Bari Ben ritrovati al nostro appuntamento col Biancherosso TV Sport, telecamera e rinquadratura svelano subito l'ospite Buongiorno a tutti Direttore responsabile della rivista Il Bari Bari che vive ore importanti ieri il pagamento degli stipendi di luglio, agosto e settembre 2011 ha evitato una nuova penalizzazione soprattutto ha evitato al Bari di prendere una deriva senza ritorno quindi diciamo Bari resta a galla questo può essere il titolo dopo quello che è accaduto ieri dopo che la famiglia Matarese ha preso quello che ha definito il suo ultimo impegno pagando questi stipendi Allora bisognerebbe avere una sfera di cristallo oggi per capire adesso che cosa succede fondamentalmente però tu come la vedi la situazione? Come vedo la situazione come la vedo oggettivamente perché quello che insomma sta succedendo innanzitutto sul fronte diciamo della vecchia cioè della proprietà e della vecchia dirigenza mi sembra abbastanza chiaro l'intenzione del disimpegno non abbiamo avuto fino ad oggi delle dichiarazioni ufficiali dei singoli rappresentanti però diciamo con ieri mi sembra cristallizzata la decisione di smettere l'impegno avuto per tanti anni nel Bari questo è il primo profilo sull'altro ci sono c'è una trattativa da quello che ci risulta in corso devo dire la verità non so come potrà concludersi anche perché da quello che mi risulta la Meleam da sola forse non ha la consistenza economica per affrontare un impegno così gravoso si continua a dire chissà chi c'è dietro sì però questa cosa del chissà chi c'è dietro non mi fa diciamo pensare in positivo perché le cose devono essere secondo me chiare subito quindi probabilmente chi sta svolgendo la trattativa le avrà chiare nel corso dei colloqui degli incontri però d'altra parte cioè dire forse c'è dietro il Nabal non ha senso allora facciamo così Michele non ha senso c'è un amico in linea prendiamo la telefonata e poi vi dico subito abbiamo un'intervista nostra esclusiva con il sindaco Emiliano importante fondamentale in questo momento non dimentichiamolo Emiliano sabato da New York scrive dicendo ai matarrese evitiamo il peggio cioè fatevi carico di quest'altro impegno pagate gli stipendi poi in sintesi ci pensiamo noi nel senso le istituzioni trovano chi salva in maniera più definitiva il Bari lo abbiamo intervistato Emiliano prima però diamo la precedenza a questa telefonata pronto? pronto? sì eccoci qua basta alla fascia cominciamo bene basta basta con Antonio Matarese mi sta deludendo parzialmente parzialmente vabbè ok basta con Vincenzo Matarese il resto della famiglia lo ha internato vabbè un po' forte questa questa definizione basta con Michele Matarese eh c'è lui sulla coscienza i due punti di penalizzazione mhm basta con tutti gli imprenditori locali mhm basta con Iacobini mhm basta con lo sceriffo mhm basta con Bacco Tabacco e Venere vabbè ovvero basta con l'Embriac mhm le Vizius eh 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 vabbè vabbè un po' troppo dai vabbè stop oggi 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 non esco basta con le pompe di Giulio Mola vabbè basta con Leonardo Gaudio doveva fare il porno star no Leonardo no dai basta con Mimo D'Adelfia vabbè vabbè basta con il silenzio inquietante di Pasquale Zattarelli mhm basta con le emittenti radio televisive di Filippo Don Vito mhm che c'è basta con l'amante segreto no 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 basta 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 stop oggi proprio sei incontenibile non ci rimane più niente basta 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 non abbiamo più niente vabbè vabbè ovviamente il senso ironico di questo intervento è è chiaro è qui spero che nessuno si offenda per quello che diciamo è soltanto fatta del dell'ironia e soprattutto insomma vabbè frutto anche un po' di esasperazione del momento insomma c'è insomma Tarese è assolutamente in giro continua a fare in pieno il proprio il proprio lavoro il proprio come dire la propria professione e poi credo che soffra comunque continua a soffrire un po' per quello che accade nel male questo penso anch'io come minimo tanti anni di permanenza non gli consentono di essere completamente indifferente a una situazione del genere comunque vabbè il sindaco ce lo ascoltiamo insieme poi torniamo e commentiamo sono curioso il sindaco Emiliano Sindaco e Matarese hanno fatto quello che lei si aspicava facessero cioè pagare gli stipendi ora? beh adesso bisogna che quel processo di trapasso della società ad una nuova struttura sia accelerato io non posso che essere grato alla società alla famiglia Matarese per avere fatto quest'ultimo sforzo ma proprio per essere coerente con l'appello che avevo lanciato adesso dovrò sottoporre tutti gli imprenditori dell'area metropolitana di Bari della provincia di Bari ad una precisa istanza adesso al di là di ogni considerazione in questi anni dall'amministrazione comunale di Bari sono state messe in opera una serie di azioni nell'edilizia privata nell'edilizia pubblica nelle grandi opere nelle ricostruzioni dei teatri e abbiamo messo in movimento un'economia che in nessun'altra città d'Italia è stata attivata in questa maniera i beneficiari di questa attività da parte del Comune sono stati in gran parte questi imprenditori adesso io chiedo loro di sobbarcarsi perché questo certo non può farlo il Comune l'onere di tenere viva una tradizione ultracentenare del calcio barese non perché io sia un tifoso o un fanatico del calcio tutt'altro perché noi crediamo che in tutte le grandi città europee il calcio possa essere una di quelle strade attraverso le quali il marketing attrattivo di una città consente l'incremento del benessere il calcio è un elemento della nostra economia e adesso va gestito con professionalità coinvolgendo anche lo dico con chiarezza la popolazione della città e il tempo anche per dare all'interno del Consiglio dell'amministrazione della società una rappresentanza alla tifoseria organizzata che non è quella che crea disordini per strada ma è quella che si interessa della gestione della squadra che interviene e che tutela le prerogative pubbliche che sono legate al calcio in maniera indiscutibile in tutto il mondo ha segnali che la fanno essere ottimista rispetto a questo tentativo di sabotaggio del Bari guardi io non voglio parlare né di ottimismo né di pessimismo voglio dire che è dovere degli imprenditori della provincia di Bari farsi carico di questa cosa se Bari dovesse subire l'onta del fallimento della squadra di calcio noi ne avremmo tutti un danno un danno ripeto di natura economica di immagine che ha anche una sua ricaduta sul benessere delle persone quindi ripeto non sto parlando del calcio come speculazione politica infatti ho chiesto che questo lavoro venga fatto da un gruppo plurale che non strumentalizzi il calcio a fini economici o a fini politici ma che lo utilizzi come mezzo per dare lustro ed immagine ad un'intera città e peraltro l'amministrazione comunale come è noto consente e consentirebbe a questo gruppo non solo l'acquisto dello stadio ma anche l'utilizzo di tutta l'area che è stata oggetto di una variante per costruire attività economiche e culturali connesse al calcio che possano aiutare questo gruppo a sostenere economicamente la squadra di calcio esattamente come avviene in tutte le grandi città europee Madrid Londra Parigi Monaco di Baviera il calcio è uno strumento per fare business ovviamente questo strumento deve essere rispettoso della passione dei valori sportivi che il calcio contiene ed esprime Un giorno abbiamo visto qui uno dei dirigenti della Meliam che in questo momento ha una trattativa in corso con il Bari ha unnesso la presenza al comune di uno dei rappresentanti con la possibilità di acquistare il Bari e dell'iniziativa del comune oppure è stata una cosa così sporadica? Guardi il dottor Bacco mi ha chiesto di incontrarmi è venuto qui e in maniera corretta mi ha informato dell'inizio dell'avvio della trattativa col Bari dopodiché non sta a me stabilire chi sarà l'acquirente del Bari voglio però precisare che dal mio punto di vista una pluralità di imprenditori con uno statuto societario chiaro concordato con l'amministrazione comunale che veda un controllo pubblico e trasparente da parte di noi tutti sulle attività della società quindi una spersonalizzazione uscire dall'epoca matarrese non con soggetti che ancora una volta prendono su di sé tutte le responsabilità ma attraverso un coro collettivo che possa anche distribuire il peso economico di questa operazione in maniera più giusta e più corretta ecco questo schema mi pare più giusto se ovviamente all'interno di questo gruppo che si deve liberamente comporre c'è questa o quell'altra società a me questo non interessa a patto che si tratti di persone corrette perché è chiaro che da questo momento in poi io devo esercitare anche sulla costruzione di questa compagine quel controllo pubblico che l'opinione pubblica mi chiede di fare